Vola il made in Italy salvagente del paese in periodo di pandemia. Da settembre 2020 ad agosto 2021 è arrivato al ridosso di circa 500 miliardi di euro, 494 per la precisione bilancio che tende inoltre a migliorare di mese in mese. Trend che in assenza di brusche inversioni di rotta proietta ai valori 2021 oltre quota 500 miliardi. Poche eccezioni negative tra cui spicca naturalmente il tessile abbigliamento, qui il gap è del 7%. Con questo trend l'Italia supera di quasi un punto il tasso di crescita pre-crisi pari al 3,1% tra il 2012 e il 2019 e stima che raggiungerà i 550 miliardi di euro in beni esportati entro il 2024. Ma come la storia più recente ha ricordato è difficile oggi fare previsioni che nel tempo possono cambiare, vista anche la presenza ancora della pandemia. Di fronte a un nuovo congelamento anche solo parziale dell'economia mondiale le esportazioni italiane del 2021 si limiterebbero a una crescita del 7,2% nel 2022. Il recupero quindi delle vendite made in Italy nei mercati esteri dunque sarebbe rimandato al 2023. In Campania la situazione è uguale al resto del paese. A tenere alto il tasso del PIL, le PMI e l'artigianato di qualità. Il ministro degli esteri Di Maio in visita a Napoli in questi giorni ad alcune realtà centenarie della città, tra queste la Maison Cilento, ha ribadito ai nostri microfoni la volontà da parte del governo di tutelare questo patrimonio nazionale fatto di artigiani e imprenditori coraggiosi. Ora dobbiamo essere in grado di trasferire queste conoscenze e queste competenze alle giovani generazioni. A rischio di essere retorico però il punto è questo. Adesso dobbiamo essere in grado di non perdere quest'arte perché è una vera e propria arte e siamo nell'epoca in cui il valore aggiunto nel business non lo fa la quantità ma la qualità. Quindi è l'epoca ideale per riuscire a riportare tanti giovani senza lavoro o che vogliono nuovi stimoli in questo settore e seguire esempi come quello dell'imprenditore Cilento per riuscire a costruire una nuova narrazione anche del lavoro. perché il lavoro non significa necessariamente andare a lavorare alla Silicon Valley e quindi essere innovativi. Qui c'è tanta innovazione, c'è innovazione ogni giorno in quello che si produce, in quello che si progetta, in quello che poi si vende e che crea posti di lavoro sul nostro territorio. Io lavoro continuamente all'export nel mondo perché so che esportiamo il prodotto ma creiamo lavoro qui.